Benvenuto, quasi, quasi per la sigla, Valerio Faccini, una sorpresa per te, ecco qua, ho raccolto delle foto tue nel corso degli anni, queste sono bellissime, ho avuto solo, mi tremava la mano, quindi ho voluto omaggiarti, anche un ricordo per te. Grazie, 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 belle, sei meravigliosa, grazie a te, ho pensato a te questa settimana, grazie, che belle, sai, mi hai fatto proprio un regalo, non le ricordavo neanche, ma pensate, ma quanto sei bravo Valerio, quanto sei bella te, ma gli fate un applauso, a Paola, con tutto il mio cuore, che belle, le voglio, poi me le dai Valerio, si, te le do tutte, va bene, e poi non so se hanno messo altre, Ecco qua, queste sono delle foto di moda che ho fatto io, quindi guardate qui che roba, ecco, insomma, si commentano da sole, si commentano da sole, non devo dire niente, non devo dire assolutamente. Qui sono venuto bene io, qui sei sotto te, sotto, vedi, sono vestito, queste sono alcune chicche, solo alcune chicche, ma dopo di te non potevo mettere cose troppo belle. Bravissimo Valerio, grazie, grazie, raggiungici.